Signori, signori, siamo qui noi soli per portare avanti la nostra sfida. Quindi, riabilitiamo il pad 1 e riabilitiamo il pad 2, quindi si va avanti. Sì, però io avevo cambiato input configuration. Input configuration, ok, sì, x, z, z, x, a, s. Allora, eravamo rimasti che vinto con lui, perso con lei. Ma mi tocca di vincere, ne devo vincere almeno una. Giochiamo col robottino, va? Vediamo che succede. Qua mi sta sfuggendo di mano. Guarda, facciamo così. Ho già perso anche troppe vite. Vorrei ricominciare, ma non sarebbe leale nei confronti della sfida che mi sono autolanciato per voi. Lo faccio solo per voi, ricordatevelo. Ho rischiato. di non passare neanche al primo livello. Gravissimo. Questo, vedete, questo è gravissimo. Non me lo sarei mai aspettata. Gravissimo. Grazie a tutti. Oh, pianino, pianino, no, pianino. Non avere fretta. Pensano di potermi. Eh no! Oh, appena in tempo. Oh! Volano come razzomiscili con circuiti di mille valvole. Non amo particolarmente il suo attacco speciale. Non lo so perché, però non mi piace. Ma boh, questo è. Oh, non è arrivato. Non sopravviverete a lungo al mio passaggio. Forse neanch'io, se continuo queste manovre strane. E' lento da matti, eh. Sono abituato a roba più veloce, più scattante, più agile. Dove va? Oh, è tutto. 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 Dovevo per forza perdere una vita così Eh va va Ragazzi è tutto uno schema Ogni attacco ha il suo schema Basta che lo capiate Una volta ha preso lo schema Che non è sempre facile Soprattutto se sei in presenza di qualcosa Di veramente Lento Come sto ragazzo qua Come sto ragazzo qua Cidimi Bravo No Questo era di troppo Volevo perderne solo uno Era necessario perderne una Però Ho due Questo non era necessario Verrà ma bene Allontanate Via 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 Voi Voi Questa è stata queste fare Che pu musstagò Cِ 차 Voi Llenare amma mia che schifo d'attacchi che c'è oh e non mi potete venire a dire che poi sono io questo è proprio uno schifo di attacco di attacco speciale veramente ecco lo c'ha di buono sto personaggio niente come l'ho evitato non lo so non lo voglio neanche sapere miracoli esistono ragazzi miracoli esistono ma non so se riesco a superare questo miracolo no sapevo io mi spaventa l'ultimo episodio mi spaventa non so neanche se si arriva l'ultimo non so neanche se si arriva l'ultimo episodio Signore, è una disfatta. Signore, è una disfatta. Signore, è un miracolo che non sono ancora desveduto in nessuno, dei modi possibili in cui... Dai, è lento, è lento, è lento! No! No, non, 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 non... Ah Ah Dai è fattibile Credici Allora Eh Grazie a tutti. 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 Devo sopravvivere, devo sopravvivere, devo sopravvivere. È un miracle! Che brutto finale, però... No, io ho perso il punteggio, io ho perso il punteggio, avevamo 4 a 2, 4 a 2, quindi 5 a 2, sì, sì, 5 a 2, 5 a 2, 5 a 2, 5 a 2. Signori, vabbè, i titoli, vabbè, i titoli di coro sono sempre quelli. Ci vediamo alla prossima.